Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitt, annuncia che i dati dei positivi al Covid continuano ad essere in calo rispetto ai giorni scorsi in città. Attualmente ci sono 932 casi positivi con un solo ricoverato. Il sindaco invita a non abbassare per nessun motivo la guardia, a continuare a vaccinarsi e a vivere la propria vita con prudenza. Per quanto riguarda i dati regionali, nella giornata del 25 gennaio sono stati registrati 12.751 nuovi casi su 95.198 test, 18 le persone decedute. In provincia di Bari sono stati 3847 nuovi casi registrati, in provincia di Bat 1580, in provincia di Brindisi 1111, in provincia di Foggia 2.196, in provincia di Lecce 2.136, in provincia di Taranto 1.726. Anche il dato complessivo delle persone attualmente positive al Covid in Puglia registra un calo, 121.543 sono i pugliesi attualmente positivi, 714 sono ricoverati in area non critica, 67 si trovano in terapia intensiva.